Un 27enne di Parre, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri, poco dopo aver messo a segno un furto in un'abitazione di Ponte Nossa. Tutto è cominciato intorno alle 18.30, quando due coniugi, rientrando dopo la messa, hanno trovato l'abitazione in via Parre a soquadro. Mancava anche la cassaforte a muro. Subito sono stati avvertiti i carabinieri che nella zona hanno trovato alcune tracce, un guanto ed altri oggetti che hanno indirizzato i militari su un sentiero che porta a Parre. I militari hanno così deciso di visitare l'abitazione del 27enne, e qui lo hanno trovato in garage con un flessibile in mano, con il quale aveva appena aperto la cassaforte. Subito sono scattate le manette, il bottino, orecchini, collane, anelli, orologi con tanti assegni e per circa 10.000 euro è stato recuperato. Questa mattina il giovane è stato processato con rito direttissimo ed è stato condannato a due anni e un mese. Ora si trova in carcere a...